Sono Sabrina, il nuovo vicepresidente dell'Associazione H di Massa Carrara. Vi ringrazio per il sostegno dimostratoci e faccio gli auguri a tutta l'organizzazione per i vent'anni della vostra attività. Davvero una grande soddisfazione. Sono Rosanna Viaggi, presidente dell'Associazione H di Massa Carrara. Sono felicissima di farvi gli auguri per questi 20 anni trascorsi assieme. Il vostro contributo è stato essenziale per la nostra crescita. Grazie ancora per tutto. Sono Stefania, faccio parte del Comitato dei Provvivieri dell'Associazione H di Massa Carrara. Vi rinnovo gli auguri per i vostri 20 anni e vi auguro di continuare ad essere vicini al volontariato con la passione e la professionalità che vi contraddistinguono.